guarda è una scultura di sabbia della faccia di Timmy coraggio stacchiamogli il naso se solo fossi più forte ehi ho trovato esprimerò un desiderio per liberarmi far tornare Trixie e dare a Francis una lezione con i fiocchi trovi sia una buona idea preferire i muscoli al cervello guarda me io non ho niente desidero diventare il più forte della spiaggia divertirsi tanto dovrebbe essere vietato dalla legge che io infrango sempre ma chi se ne frega stavolta finirai dietro le sbarre sbarre di sabbia ora scenda in spiaggia e tagli il nastro dell'inaugurazione ma prima chi salverà te? una valena in spiaggia niente panico questo non è il mostro delle ase accidenti che altro succede ora? spero che almeno piaccia il cliente di là è già tutto pieno scusi aveva la prenotazione? no vedrò di trovarle un posticino accidenti state sprecando un bel po' di soldi oh beh è vero lo so ci è mancato poco sono di nuovo un rammollito e sapete? è così che mi piace essere ed anche io ti preferisco così guarda sapone dove? ehi è qui il mostro ah 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 ah